Buongiorno a tutti, oggi escursione da Colle Longo, sentiero per le mainarde facendo il morone delle rose e il cavallo. Deve essere un anello, vediamo un po' com'è. Grazie a tutti. 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 Eccoci giunti alla fine di questo bellissimo percorso sulle Mainarde ad Anello, sul Morrone delle Rose e il Monte Cavallo. 2009-2000. Due belle montagne in un ambiente bellissimo del Parco Nazionale d'Abruzzo, versante laziale. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.